Hai mai sognato di poter predire il futuro? Di poter guardare oltre il velo del tempo? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nell'oscurità della notte, quando le stelle sembrano essere i soli testimoni del destino dell'umanità, si nasconde una storia avvincente di profezie e mistero che ha catturato l'immaginazione delle persone per secoli. Oggi, ci immergeremo nel cuore di questa antica profezia, una predizione che potrebbe gettare luce sull'inizio della fine dei giorni. Questa profezia affonda le sue radici nelle profondità del tempo, in un'epoca in cui la conoscenza e la fede si intrecciavano in modi enigmatici. L'origine esatta della profezia è avvolta in leggende e miti, ma si dice che risalga a una figura mistica del passato, un profeta o una profetessa, che fu ispirato ad avvisioni divine a condividere con il mondo ciò che aveva visto nel futuro. Il cuore di questa profezia è stato preservato in un antico manoscritto, considerato da molti un testo sacro e segreto. Il manoscritto è stato tramandato di generazione in generazione, custodito gelosamente da una linea di custodi spirituali che hanno dedicato la loro vita a proteggerlo. È stato scoperto in un'antica cripta nascosta sotto una chiesa remota, in circostanze misteriose e con un alone di divinità. La profezia stessa è scritta in un linguaggio simbolico e oscuro, che richiede una profonda interpretazione. I primi tre segni celesti sono stati decifrati da studiosi e teologi esperti, e la loro rivelazione ha scosso il mondo religioso e la vita delle persone comuni. Ciò che rende questa profezia così affascinante è il fatto che non è legata a una sola religione o tradizione. Essa attraversa confini e credenze, unificando le persone in una ricerca comune di comprensione. È un enigma che sfida il nostro modo di vedere il mondo, una storia che mette alla prova la nostra fede e la nostra ragione. Per comprendere appieno il potere e il significato di questa profezia, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo, fino a quando le prime tracce di questa visione profetica apparvero nell'antichità. La leggenda narra che la profezia ebbe origine in un antico monastero situato sulle pendici di una montagna isolata. Questo monastero era noto per essere un luogo di contemplazione profonda e spiritualità intensa, frequentato da monaci dedicati alla ricerca della verità divina. Si dice che uno dei monaci o monache di questo monastero avesse ricevuto una visione straordinaria durante un lungo periodo di meditazione solitaria. La visione lo o la trasportò in un regno di luce e oscurità, dove gli furono rivelati i segreti dell'universo. La figura misteriosa che gli apparve in questa visione gli dette il compito di condividere con il mondo le profezie che aveva visto. Il monaco o la monaca passò il resto della sua vita a scrivere il manoscritto, trascrivendo meticolosamente le parole e i simboli che gli erano stati mostrati nella visione. Il manoscritto era un testo intricato, in cui le parole sembravano danzare come stelle nel cielo notturno. Il monaco o la monaca mantenne segreta la profezia, condividendola solo con gli altri monaci del monastero, che la custodirono gelosamente. L'interpretazione della profezia divenne una disciplina religiosa a sé stante. Erano necessari anni di studio e meditazione per comprendere il significato nascosto di ogni simbolo e parola. Gli studiosi e i teologi di diverse tradizioni religiose iniziarono a convergere in questo monastero, desiderossi di accedere al manoscritto e di approfondire la loro comprensione dei segni celesti. Dopo secoli di ricerca e studio, i primi tre segni celesti furono finalmente svelati. Questi segni erano descritti come eventi astrali straordinari, tra cui l'apparizione di una cometa luminosa, un'eclissi solare eccezionalmente lunga e la formazione di una costellazione unica nel suo genere. Questi eventi, interpretati alla luce delle parole della profezia, vennero visti come presagi di grandi cambiamenti imminenti nell'ordine del mondo. La rivelazione dei primi tre segni celesti ebbe un profondo impatto sulla religione e sulla società. Molti credenti li accolsero come prove tangibili della profezia, mentre altri erano scettici, vedendo questi eventi come semplici coincidenze astrali. La profezia divenne oggetto di dibattiti teologici e di ferventi discussioni nelle comunità religiose di tutto il mondo. Nel prossimo segmento, esploreremo in dettaglio questi primi tre segni celesti e le interpretazioni che sono state attribuite loro nel corso dei secoli. Continuate a seguirci mentre ci addentriamo sempre più nel cuore di questa avvincente profezia e cerchiamo di svelare il suo significato nascosto. Le rivelazioni riguardanti i primi tre segni celesti non tardarono a catturare l'immaginazione del pubblico. Le persone di diverse culture e tradizioni religiose furono affascinate dall'idea che eventi celesti potessero contenere messaggi divini. Le reazioni del pubblico variarono notevolmente, e il mondo iniziò a dividersi tra coloro che abbracciavano la profezia e coloro che la respingevano. Per molti credenti, la profezia rappresentava un risveglio spirituale. Molti di loro si riunirono in gruppi di preghiera, cercando di prepararsi spiritualmente per ciò che ritenevano essere l'arrivo imminente di eventi catastrofici. Chiese e moschee registrarono un aumento della partecipazione alle funzioni religiose, mentre la paura e l'anticipazione si diffondevano tra i fedeli. Tuttavia, non tutti erano pronti a credere. Gli scettici e i critici, compresi molti scienziati, sottolinearono che gli eventi estrali potevano essere spiegati scientificamente e non necessariamente dovevano essere interpretati come segni divini. Alcuni sostenevano che la profezia fosse semplicemente una manipolazione delle masse da parte delle autorità religiose. La prospettiva di eventi cataclismatici predetti dalla profezia generò una sensazione diffusa di paura e incertezza. Le persone iniziarono a prepararsi per il peggio, accumulando scorte di cibo e acqua, costruendo rifugi sotterranei e cercando di proteggere le proprie famiglie. L'ansia crescente alimentò una frenesia di preparativi che si diffuse in tutto il mondo. Mentre l'entusiasmo e la paura crescevano tra coloro che abbracciavano la profezia. Il mondo vedeva anche una crescente ondata di critica e scetticismo. Gli scienziati e gli studiosi cercavano di sfidare le interpretazioni dei segni celesti, dimostrando che gli eventi astrali erano spiegabili attraverso la scienza e non necessariamente associati a eventi divini. Gli astronomi, in particolare, iniziarono a esaminare attentamente gli eventi astrali menzionati nella profezia. Scoprirono che la cometa luminosa era il risultato di una congiunzione celeste rara, l'eclissi solare era un fenomeno ciclico e la costellazione unica era il risultato di una prospettiva temporanea. Queste scoperte furono presentate come evidenza che la profezia potrebbe non essere basata su eventi soprannaturali. Nel frattempo, anche all'interno delle diverse tradizioni religiose, sorse una discussione accesa. Alcuni leader religiosi sottolineavano che l'interpretazione della profezia era aperta a diverse opinioni e che non dovrebbe necessariamente portare al panico o all'abbandono della fede. Queste voci cercavano di calmare le paure e di promuovere una visione più moderata della profezia. Nonostante le critiche e il dibattito, la profezia rimaneva al centro dell'attenzione. Mentre il mondo aspettava con il fiato sospeso, gli studiosi e i teologi continuarono a cercare di decifrare gli altri quattro segni celesti menzionati nel manoscritto. La ricerca si intensificò, e le aspettative per ulteriori rivelazioni erano palpabili. Gli studiosi ritenevano che i prossimi segni celesti potessero fornire ulteriori dettagli sulle circostanze e le conseguenze della fine dei giorni. Il mondo rimaneva diviso tra coloro che erano convinti che questi segni fossero messaggi divini e coloro che li consideravano semplici eventi astrali privi di significato soprannaturale. Mentre il dibattito e la ricerca continuavano, il mistero della profezia rimaneva insoluto. Il mondo si trovava in una sospensione tra fede e ragione, tra paura e speranza. La profezia aveva scatenato un fenomeno culturale senza precedenti, influenzando la religione, la società e la psiche umana in modi che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L'aspettativa degli eventi profetizzati nella profezia aveva scatenato una frenesia di preparativi in tutto il mondo. Coloro che credevano fermamente nei segni celesti stavano facendo tutto il possibile per prepararsi per la fine dei giorni imminente. Queste preparazioni variano notevolmente, ma riflettono la gamma completa di reazioni umane di fronte all'incertezza. In molte parti del mondo si erano costruiti rifugi sotterranei per proteggersi da eventuali catastrofi. Questi rifugi erano provvisti di scorte di cibo, acque e attrezzature di sopravvivenza. Le persone passavano ore a rifornirsi di beni di prima necessità, temendo una possibile interruzione delle forniture. Alcune comunità avevano scelto di isolarsi dal mondo esterno, vivendo in modo autosufficiente per evitare i potenziali disastri. Queste comunità agricole e rurali cercavano di ridurre al minimo la loro dipendenza dalla tecnologia moderna e dalle risorse esterne. Per altri, la preparazione era soprattutto spirituale. Molte persone avevano intensificato la loro vita di preghiera e meditazione, cercando di purificarsi spiritualmente in previsione degli eventi imminenti. Alcuni abbracciavano la penitenza come segno di devozione. Molti cercavano costantemente conferme dei segni celesti nelle notizie, nelle osservazioni astrali e nelle tradizioni religiose. Qualsiasi evento astrale insolito o qualsiasi catastrofe naturale venivano interpretati come segni del destino imminente. Nel frattempo, la comunità scientifica si era impegnata a fondo nella ricerca per svelare la natura degli eventi celesti menzionati nella profezia. Gli astronomi lavoravano instancabilmente per dimostrare che questi eventi erano il risultato di fenomeni naturali spiegabili. Molti astronomi erano riusciti a dimostrare in modo convincente che la cometa luminosa era il risultato di una coincidenza celeste, l'eclissi solare era una conseguenza dei movimenti orbitali e la costellazione unica era un'illusione. Prospettica temporanea. Queste conferme scientifiche avevano gettato un po' il di dubbio sulle interpretazioni apocalittiche dei segni celesti. Gli scienziati, tuttavia, si trovavano in una posizione delicata. Mentre cercavano di svelare i segreti dell'universo, erano consapevoli del potere della fede e dell'importanza della spiritualità nella vita delle persone. Molti scienziati erano preoccupati che le loro scoperte potessero essere percepite come un attacco alle credenze religiose e provocare disordini. Il mondo si trovava in uno stato di tensione tra la scienza e la religione, tra il desiderio di una spiegazione razionale degli eventi e la paura dell'ignoto. Mentre la ricerca scientifica procedeva, il mondo attendeva ansiosamente il verificarsi dei prossimi segni celesti per vedere se avrebbero confermato o smentito la profezia. A distanza di anni dalle prime rivelazioni dei segni celesti, il mondo rimaneva diviso tra coloro che abbracciavano la profezia con fervore e coloro che erano scettici. La profezia aveva generato un fervore religioso senza precedenti, ma anche una crescente ansia riguardo al futuro. Al di là delle interpretazioni e delle credenze personali, la profezia rifletteva le paure e le speranze dell'umanità. Era una prova tangibile della nostra ricerca di significato e della nostra lotta contro l'incertezza. Indipendentemente dal fatto che la profezia si rivelasse vera o falsa, l'antico manoscritto aveva già lasciato un'impronta indelebile sulla storia dell'umanità. Aveva sfidato le nostre convinzioni, ci aveva costretto a riflettere sulla nostra fede e sulla nostra capacità di affrontare l'ignoto. La domanda fondamentale rimaneva, gli eventi profetizzati avrebbero portato alla fine dei giorni, come predetto nella profezia, o forse rappresentavano l'inizio di una nuova era, un cambiamento radicale nella coscienza umana? In questo video, abbiamo esplorato il mondo avvincente della profezia e dei segni celesti. Ora tocca a te, caro spettatore, condividere le tue opinioni e riflessioni. Credi che la profezia si avvererà, o credi che sia solo frutto della nostra immaginazione collettiva? Lascia un commento e un like se hai apprezzato questo viaggio attraverso il mistero e la profezia. Grazie per averci seguito, alla prossima!